L'Empoli è matematicamente promosso in Serie A grazie al 4-0 rifilato al Cosenza, una pura formalità il match contro i Silani, così come il raggiungimento di un obiettivo costruito giornata dopo giornata dall'alto di un primo posto quasi sempre ad appannaggio dell'11 titolare allenato da Dionisi. Tra i protagonisti del triunfo c'è pure Fabiano Parisi, ceduto in estate dall'Avelino per una cifra che va su 450.000 euro. Grazie al salto di categoria il club bianco-verde riceverà un bonus da reinvestire sul mercato. Resta attiva anche la clausola del 10% da incassare sulla futura vedia del calciatore. Il Folletto di Serino in questa stagione ha collezionato 19 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Gettoni di presenza acquisoma anche la rete segnata alla Salernitan nel match d'annato terminato con il punteggio di 5-0. Elemento alla sua prima stagione in Serie B che ha già mostrato di che passo è fatto. Al punto tale da attirare su di sé l'interesse del Genoa che secondo indiscrezioni avrebbe offerto ai toscani circa 7 milioni di euro. Tradotto in soldoni in caso di cessione, l'Avelino incasserebbe una cifra che si aggira intorno ai 700.000 euro.